Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. E business online. A cura di Giulio Gaudiano. Bentrovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia digitale. Il souvenir digitale che scopriamo oggi è qualcosa di veramente ghiotto per tutti coloro che devono portare online nel mondo digitale fotografie di oggetti reali. Mi ha ricordato il teletrasporto, vederlo in azione. E l'ho visto in azione qui tra i corridoi, tra gli espositori di IAB 2017. È una società francese, il suo creatore si chiama Auriel Yen. E prima di ascoltare dalla sua viva voce di che cosa si tratta, voglio spiegare a chi passa di qui per la prima volta che cos'è un souvenir digitale. È molto semplice. Un souvenir digitale è una tecnologia, un software, una app, un contenuto che possa cambiare in meglio, in grande o in piccolo, la vita di chi lavora e fa business nel mondo digitale. Questo souvenir digitale lo farà senz'altro. Va a risolvere un problema molto molto preciso che ho sperimentato in prima persona. Infatti non l'ho mai raccontato, ma un mio cliente è un produttore di tacchi in cuoio e gomma. Un prodotto strano, è un prodotto B2B che va a fornire produttori di scarpe. Bene, una volta per questo cliente all'apertura del suo e-commerce abbiamo dovuto fotografare, curare la realizzazione di foto di centinaia di tacchi. Da tutte le angolazioni, perché poi chi va a installare questi tacchi vuole il più possibile dettagli specifici su come vengono fatti, su come si presentano alla vista. Bene, è stata un'impresa titanica e questo souvenir ci avrebbe veramente cambiato la vita. Bando alle ciance è arrivato il momento di scoprire dalla viva voce di Aurelien che cos'è il souvenir digitale di oggi. Il souvenir digitale Allora, lo ScanCube è un sistema fotografico automatizzato, diciamo. Abbiamo ideato nel 2010 appunto per rispondere a una problematica conosciuta da chi vende online, cioè la problematica dello shooting fotografico. È un sistema che contiene un software, un cubo luminoso, un piatto girevole e una fotocamera. Il tutto, essendo collegato al computer, permette a qualsiasi persona, anche assolutamente amatoriale in fotografia, di poter realizzare il suo shooting fotografico di maniera veloce, autonoma e come un vero professionista, diciamo. Quali sono le aziende o i professionisti ai quali vi rivolgete, quelli che sono i vostri clienti? La maggior parte dei nostri clienti sono e-commerce, ma abbiamo anche le agenzie web che possono decidere di attrezzarsi di un sistema fotografico per vendere il servizio. Magari ai siti e-commerce un po' più piccoli, che magari non hanno ancora una gamma abbastanza grande per potersi offrire un sistema del genere, anche se il costo non è esagerato. Diciamo che chi ha più di 200 prodotti nuovi annualmente riesce ad ammortizzare l'investimento sul sistema del genere. Sì, perché in effetti, se ti organizzi in maniera indipendente, quello che devi fare per portare un prodotto su un e-commerce fotografato in maniera professionale è fare uno shooting andando a rivolgerti a un fotografo. Quindi vai dal fotografo, chiedi un preventivo, il fotografo ti dice quanto ti costerà rispetto al numero di oggetti che devi fotografare devi portare gli oggetti dal fotografo, oppure devi far venire il fotografo da te, il quale deve portarsi l'attrezzatura devi montare l'attrezzatura, realizzare le fotografie, fare post-produzione e portarti queste fotografie post-prodotte e se è un fotografo che lavora con il web, dal punto di vista che è abituato a lavorare con gli e-commerce saranno già post-prodotte e preparate per darle al programmatore, al webmaster che le metterà sull'e-commerce. Tutto questo processo funziona molto bene se lo descriviamo così sulla carta ma se andiamo poi a farlo funzionare nella realtà esce fuori, lo dico per esperienza personale che hai dimenticato cinque prodotti che devi integrare con un prodotto in più che hai deciso di inserire nell'inventario, magari perché hai scoperto che una persona che un prodotto è particolarmente venduto in un colore nuovo di gamma deve inserire un colore nuovo di gamma e questo processo, se viene ripetuto per dieci pezzi, ha un costo a pezzo enormemente superiore rispetto ai duecento che hai fotografato prima Quindi, come è venuta questa idea? Cioè, è nata dalla prova su strada di questo genere di problemi o avete osservato altri tipi di esigenze del mercato? No, beh, nel 2010 ci siamo resi conto che, ed è ancora il caso oggi non è la percentuale esatta ma la maggior parte dei siti e-commerce in Francia ma immagino che sarà la stessa cosa in Italia sono piccoli, sono tenuti da due persone e quindi fanno le foto con l'iPhone davanti ad un muro bianco magari hanno qualche lightbox comprato per pochi euro su Amazon comunque hanno delle soluzioni abbastanza basiche e passano un sacco di tempo in post-produzione su Photoshop o altri tipi di software di ritocco e quindi l'idea era di creare un sistema chiave in mano che poteva rispondere alle esigenze sia di piccoli siti e-commerce ma sia a grande catene, grande retailer o anche oggi alla grande distribuzione che abbiamo attrezzato Decathlon, Auchan, Chanel, eccetera quindi abbiamo sviluppato un software che permette appunto a chi non ha mai fatto una foto in vita sua di poterlo fare con lo ScanCube e anche a un fotografo professionista o aziende che hanno già un team di grafico di poter anche loro andare un po' più avanti con la sconsione dei code bar per nominare le foto è andato così grosse aziende come Carrefour, Auchan quando hanno visto l'inizio del nostro prodotto hanno detto va bene, questo va bene però sarebbe ancora meglio se potete appunto darci la possibilità di lavorare in serie con questa opzione della sconsione dei codici a bar appunto per dare il nome alla foto quindi associando proprio la foto scattata dal programma un codice a barra che identifica in maniera univoca il prodotto esatto, così è più facile per tutti per poi ritrovare la scheda prodotto e nel loro gestionale di appunto poter fare il legame tra la foto e la scheda prodotto devo dire che ho avuto un'impressione stranissima nel momento in cui ho visto lo ScanCube cioè ho detto ma è possibile che sia vero una cosa del genere perché quando ho incontrato lo ScanCube qui per i corridoi dello IAB da una parte c'era uno schermo lo schermo di un computer con una foto estremamente professionale dentro una specie di Photoshop dall'altra parte c'era questo cubo con dentro lo stesso oggetto che era fotografato l'impressione era che fosse una foto scattata e poi già post prodotta quando tu hai premuto un pulsante hai cominciato a far girare il prodotto dentro il cubo e il prodotto ha cominciato a girare anche sullo schermo quindi spieghiamo esattamente come funziona il processo partiamo da zero io ho una scarpa voglio fotografare una scarpa ho chiesto a te di utilizzare lo ScanCube ho acquistato lo ScanCube e mi ritrovo dentro il mio studio un cubo in questo caso per la scarpa non so che dimensione A sarà due metri per uno più o meno un cubo illuminato e collegato via USB al mio computer e davanti a questo cubo c'è una macchina fotografica cosa devo fare per fotografare la mia scarpa? allora sono davanti al mio computer a destra del mio computer ho il mio cubo ScanCube il tre piedi con la fotocamera a due metri di fronte e ho appena messo la scarpa dentro il mio cubo luminoso ScanCube poi faccio tutto col mouse direttamente grazie al nostro software il nostro software ci dà il live view della fotocamera quindi vedo in diretta quello che sto facendo uno dei vantaggi più importanti dei cubi ScanCube è che è la luce regolabile parliamo di un cubo tutto a LED full LED con 5400 gradi Kelvin è un cifro così che può far paura a chi non conosce la fotografia ma l'obiettivo nella fotografia è di avvicinarsi al massimo alla luce del giorno la luce del giorno è più o meno 5600 gradi Kelvin quindi abbiamo preso dei pannelli con una massima performance per arrivare a una fedeltà dei colori la più precisa possibile che è quello che ho ricercato nell'e-commerce quindi ho messo la scarpa nel mio cubo e grazie al mio software potrò gestire le 6 fonti di luce che ho nello ScanCube la luce che viene dal suolo il pannello murale dello ScanCube e ho 4 luci avanti alto destra, basso destra e la stessa cosa a sinistra e quindi giocando con queste 6 fonti di luce posso adattare la luminosità alla problematica del mio prodotto queste 6 fonti di luce le governo direttamente diciamo dal mio Photoshop dal mio software di ritocco e la cosa particolare è che esattamente con l'esperienza d'uso della post-produzione quindi tastino su, tastino giù che nella post-produzione ci potrebbe aumentare o diminuire la luminosità noi in realtà stiamo facendo pre-produzione perché non stiamo agendo su un'immagine RAW su un'immagine già scattata andando a modificare dei valori tramite un algoritmo lo stiamo facendo tramite le fonti luminose quindi per quelli che sono tra di noi più tecnici che pensano alla perdita di informazione nelle fotografie non abbiamo perdita di informazione perché realizziamo un'immagine esattamente così come la vediamo sullo schermo grazie alla regolazione dell'illuminazione e una delle sfide più grandi per chi non è un fotografo è raggiungere la giusta inquadratura del prodotto perché a seconda di come guardo il prodotto alla fine ho un'impressione diversa dal punto di vista comunicativo come devo adattare il prodotto? Devo mettere le mani dentro il cubo per modificarne per esempio per inquadrarne una parte piuttosto che un'altra? No, grazie al piatto girevole anche questa tappa è automatica una volta che mi sono creato un settaggio per un prodotto dato perché questo è anche il vantaggio dello scan cube faccio il lavoro una volta e poi me lo salvo quindi oggi sono venditore di scarpe appunto mi creerò una biblioteca di impostazioni per le mie sneakers bianche stivaletti, camoscio scuro eccetera eccetera per coprire un po' tutte le problematiche che ho nella collezione e poi basta da domani mi basterà richiamare il settaggio salvato se devo fare una scarpa nuova e il cubo si rimetterà direttamente nell'ambito, nei settaggi che ho già salvato e grazie al piatto girevole posso decidere se vogliamo 4-5 angolazioni diverse oppure se vogliamo un HTML5 cioè un'animazione a 360 gradi quindi se voglio solo 4 angolazioni il software mi chiederà ok, quali angoli vogliamo? e posso digitare direttamente sulla tastiera va bene, voglio angolo 0, angolo 45 e scelgo così le mie angolazioni quindi immaginiamo di mettere lì quella scarpa lanciare la ripresa e il piatto gira e ci fa una foto in ogni posizione e si ferma ad ogni angolo che abbiamo richiesto e poi scegliamo o facciamo scegliere al cliente l'angolazione che preferiamo quindi se vogliamo ottenere un'immagine statica può scegliere lui da tutti gli angoli nei quali è stato fotografato il prodotto oppure addirittura il tuo software crea automaticamente un'animazione che diciamo ha lo stesso effetto di una giffa animata ecco per immaginarci l'esperienza un'animazione in cui giriamo a 360 gradi intorno al prodotto avendo l'impressione che il prodotto ruota davanti a noi esatto un'animazione viene fatta da 24 o 32 scatti appunto che vanno assemblati dal nostro software il risultato è un file in HTML5 quindi perfetto perché è accettato su tutte le piattaforme Presta, Shop, Magento, WooCommerce non c'è nessun problema e abbiamo questo risultato di un'animazione del prodotto che gira sempre avendo la possibilità di zoomare sul prodotto e la cosa ludica direi è che queste animazioni sono responsive quindi l'utente finale che va sul sito e-commerce del cliente che ha comprato lo ScanCube può far girare il prodotto col mouse o col dito esatto può ingrandirci anche questa parte ludica anche se non riusciremo mai a far toccare per mano il prodotto quando parliamo di e-commerce questo purtroppo non arriverà mai però l'idea è di rendere il prodotto il più fedele possibile e sempre non potendo toccarlo poter almeno giocare con il prodotto andare a vedere tutte le particolarità zoomare per vedere i dettagli la qualità del materiale certo, avere un'esperienza diciamo con un approccio tattile anche se poi manca il senso del tatto però abbiamo questo tipo di esperienza muoviamo il dito e il prodotto ruota intorno a noi andiamo proprio su questa esperienza e sull'impatto che questa cosa se potrebbe sembrare una fighetteria tecnica ha sul business avete dei dati, delle informazioni su come cambiano le vendite di un e-commerce a parità di visite con o senza la possibilità di vedere il prodotto in maniera statica o addirittura in maniera dinamica come è possibile con ScanCube dei dati precisi non ne abbiamo veramente ma i riscontri dei nostri clienti questi ce li abbiamo ogni giorno posso sentire i miei clienti che mi dicono che i loro clienti sono reso conto del cambio di qualità delle foto che dal momento in cui hanno messo il 360 ovviamente a parte che hanno visto un aumento delle vendite una cosa molto importante per l'e-commerce è una diminuzione del tasso di resa questo che costa tanto anche perché c'è meno delusione certo non c'è più quel sbaglio di dire ma questa scarpa è turchese o è verde no con questa fedeltà dei colori il fatto di poterlo girare di vedere magari in un'altra angolazione si vede meglio una cosa che io faccio sempre per dire anche quando compro tech è cercare di capire come sono fatti gli oggetti per capire se ha quella porta USB se ce n'ha una, se ce n'ha due le differenze sull'oggetto specifico quindi questo alla fine è trasversale non è solo il colore sulla borsa o sulla scarpa ma è un'esperienza più intensa di quello che è il prodotto e più che altro porta ovviamente dei miglioramenti a livello di vendite sul sito e a diminuzione di resa ma anche, ed è questo che è anche importante internamente nella gestione del sito sento spesso Aurelia ma non sai quanto tempo risparmiamo adesso non c'è più da perdere tempo su Photoshop faccio le foto sono direttamente pronte vanno messo online non ci penso più il 360 non ci eravano neanche pensato perché anche magari spesso i fotografi non sono in grado di fare questa prestazione anche perché fare la stessa cosa senza un piatto girevole automatico che controlla i gradi è di una difficoltà enorme cioè tu pensa a un fotografo devi avere comunque un piatto girevole manuale o automatico e lo deve tarare cioè devi fare un'operazione tra la fotografia e la scienza per poter realizzare un 360 e invece voi lo fate in maniera automatica velocissima l'ho visto io ne ha realizzato uno davanti a me e mi ha lasciato colpito ecco un'altra cosa che mi ha colpito è la possibilità di scontornare le immagini perché lo scontornare è un'altra operazione che prende a chi non è molto pratico molto tempo vedevo su un professionista che realizza foto di moda lavora per grandi brand il suo workflow e nel suo workflow c'è prima di tutto prendere l'oggetto dividerlo scontornarlo dividerlo in parti per poter fare post produzione sulle parti in maniera separata come funziona lo scontorno degli oggetti su ScanCube? è abbastanza facile basta posizionare il prodotto nel nostro cubo giocare con le luci che ripeto sono regolabili direttamente dal software e c'è un tasto si chiama maschera noi l'abbiamo chiamato automask che sarebbe di dire ok non voglio più una foto in jpeg voglio una foto in png quindi basta schiacciare questo bottone e direttamente il sistema il software cattora due scatti fa una foto senza luce che gli permette di recuperare la silhouette i bordi del prodotto fa un'altra foto con la luce assembla il tutto e in 5 secondi mi dà il png nel mio prodotto già scontornato ragazzi vi assicuro che è qualcosa di impressionante proprio perché non è frutto di un'elaborazione software che va a prendere un colore e va a levare quel colore e scontornare in base al colore è molto difficile richiede un professionista ma questo fatto che ci sono due immagini due foto una dove il prodotto è solamente la silhouette perché non è illuminato e un'altra invece che è il prodotto finito e questo supporto questo confronto tra due immagini genera lo scontorno bene si ottiene un risultato immediato è veramente incredibile parliamo ora della parte pratica nel senso quanto costa lo scan cube allora dipende dalle misure abbiamo 4 cubi diversi di dimensioni diverse per coprire un po' tutti i settori di mercati quindi andiamo dalla gioielleria a food fino all'abbigliamento quindi 4 dimensioni diverse partiamo dalla misura più piccola nella versione senza piatto girevole ripeto che un sistema scan cube si può comprare con o senza piatto girevole ci sono dei prodotti per i quali magari un'animazione 360 non fa senso far girare una pizza ha poco senso ad esempio o un piatto quindi parliamo da 4.400 euro per il pacchetto base piccolo base senza piatto fino a 9.700 per il più grande che permette di fare abbigliamento in 360 quindi dimensioni sfruttabili massime dei prodotti parliamo di 1.40 in altezza per 85 in larghezza quindi proprio un manichino entra dentro lo scan cube a quel punto assolutamente anche posso fare i pantaloni i jeans e ovviamente questa domanda viene sempre chiesta ovviamente si posso fare anche oggetti piccoli in un cubo grande ad esempio la decathlon ha il sistema più grande ma fanno sia appunto le tute che i guanti basta allontanare o avvicinare la fotocamera non mi serve comprare una misura per tipologia di prodotti una misura di scan cube per tipologia no un cubo grande mi permette anche di fare oggettistiche più piccole e questo è il prezzo del cubo però mi hai detto anche che a parte cubo e parte gire c'è un software questo software ha un prezzo di mantenimento è incluso no da noi la strategia di scan cube è un investimento in un blocco non ci sono costi nascosti nessun canone annuale da pagare gli aggiornamenti sono gratuiti c'è l'assistenza skype team viewer siamo sempre qui per i nostri clienti che sia in francia in italia ma vendiamo dappertutto nel mondo che abbiamo questa chance questa fortuna di essere solo pochi concorrenti al mondo e quindi è un costo fisso quindi con questi 5, 6, 7 mila euro in funzione della grandezza del cubo ho tutto mi basta avere ovviamente una fotocamera canon e un computer poi non avrò mai un euro da spendere in più è il mio budget fotografico per i prossimi dieci anni di fotografia è in grado anche di governare la camera perché non è che io vado a scattare faccio tutto dal computer assolutamente gestisco anche il focus direttamente dal software e tutti i settaggi della fotocamera vanno salvati nel software così ogni mattina ogni giorno che mi serve lo scan cube è già tutto pronto fantastico mi vengono in mente tantissime applicazioni abbiamo parlato di e-commerce sicuramente ma un e-commerce come hai detto tu da 200 pezzi in su penso alle agenzie agenzie che lavorano per l'e-commerce penso ai musei o alle istituzioni culturali io ho lavorato per esempio dentro un istituto dell'università di Roma che faceva le foto agli oggetti archeologici una cosa del genere ci avrebbe cambiato completamente la vita anche perché questo scan cube per le sue dimensioni è trasportabile quindi portabile direttamente nei luoghi di scavo per realizzare le foto senza spostare le cose dai musei o dagli scavi assolutamente ho attrezzato un museo a Bolzano che appunto non utilizzano lo scan cube per vendite ma utilizzano per l'archivio di tutte le statue che hanno in magazzino direi dovevano fare un archivio ma ogni giorno scopro un nuovo uso di scan cube non lo so Kenzo ad esempio non lo utilizza per l'e-commerce ma anche loro per l'archivio della materia prima abbiamo venuto al ministero francese della difesa perché a loro servono quando recuperano in aeroporto dei prodotti vietati quando uno va arrestato non so come si dice e devono fare la foto di quello che è stato arrestato perché questo prodotto è vietato facciamo la foto mettiamo nel dossier nella cartella della persona ogni giorno scopriamo nuove appunto nuove funzionalità per la controllo qualità o anche agende marchi italiane magari di calzature che fabbricano in India o in Pakistan che spediscono il cubo sul sito di produzione e invece di dire all'indiano o ai pakistani ok mandami un campione per verificare se questo va bene no adesso dico fammi un'animazione 360 la ricevo subito sul telefono o sul computer lo faccio girare e dire no questa coccitura non va bene la devi rifare eccetera controllo qualità è anche una delle possibilità veramente ancora il teletrasporto degli oggetti non è possibile le stampate 3D costano parecchio ma un'esperienza di ScanCube ti dà veramente l'idea di aver scannerizzato un oggetto nella realtà per poi trasportarlo attraverso il digital Aurelien ti ringrazio molto in bocca al lupo alla prossima grazie a te è sempre un gran piacere scoprire un nuovo souvenir digitale ma è ancora più bello quando lo puoi scoprire dalla viva voce di chi l'ha pensato di chi l'ha costruito di chi l'ha venduto e di chi ogni giorno è impegnato nel risolvere dei problemi di business reali attraverso l'innovazione tecnologica direi che è stato senz'altro questo è il caso di Aurelien del suo ScanCube se qualcuno di voi lo acquista mi raccomando fatemelo sapere raccontatemi poi come funziona lo ScanCube per cosa lo utilizzate voi e quali sono i vostri trucchetti per utilizzarlo al meglio come me lo potete far sapere è molto semplice su strategiadigitale.info trovate il modo di contattarmi direttamente attraverso Telegram un bel clic sul pulsantone e mi potete inviare oltre alle vostre domande anche i vostri commenti i vostri riscontri sui souvenir digitali che scopriamo insieme oltretutto lì trovate una bella lista dei nostri souvenir digitali passati quindi se è la prima volta che passi da queste parti strategiadigitale.info è il luogo che assolutamente devi visitare per oggi è tutto ma non è mai veramente tutto se non abbiamo ringraziato i produttori chi sono i produttori siete voi ascoltatori che attraverso il programma di crowdfunding mi date la possibilità di scoprire queste chicche in giro per il mondo sperando che possano avere un impatto positivo sul business di chi le ascolta e allora è valore che si trasforma in valore di contenuti o meglio in contenuti di valore che si trasformano a loro volto in valore di business insomma quando il valore è fatto veramente col cuore non smette di moltiplicarsi mai e io vi ringrazio con lo stesso cuore per il vostro contributo grazie mille anche a Sara Veltri coautrice del programma al nostro fonico Costanza Mineo e a radiospeaker.it per il sound design ragazzi grazie mille e alla prossima strategia digitale idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online e business online a cura di Giulio Gaudiano